Benvenuti e benvenute, sono Serena e sono un'estetista. Se vi piace tutto ciò che riguarda l'estetica e la cura del corpo, del viso e dei capelli, vi consiglio di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanellina qui sotto per ricevere notifiche sui prossimi video. Il prodotto di cui parlerò oggi è questa mousse detergente viso di Camelie. Una mousse viso, direi, con un ottimo inci e anche un ottimo prezzo. Questa mousse, diciamo, in particolare contiene acido iaruronico. Quindi è molto adatto per una pelle matura, ma anche una pelle sensibile. Ha un pegadie da 150 ml e un pao di 6 mesi. Bonjour, mousse detergente viso è una mousse leggera dal tocco soffice. Deterge la pelle del viso in profondità, ma con delicatezza. I suoi tensi attivi di origine vegetale sono ideali anche per una pelle sensibile, rimuovendo l'impurità e l'eccesso di sembo, senza seccarla. Può essere lasciata sul viso come maschera illuminante e anti-age. Ecco, questo non lo sapevo. E veramente non ci avevo fatto completamente caso. E qualche volta proverò. Ecco. Infatti c'è scritto che questa era lasciata in posa per 10 minuti per un effetto anti-age e illuminante. Non ci avevo fatto completamente caso. Diciamo che era stata attratta da questa mousse per il prezzo. Che adesso vi dico perché non mi ricordo. Infatti costa la bellezza di soli 8,90€. Un prezzo buonissimo per una mousse viso, diciamo, biologica. Quando ho visto una mousse con acido diarulonico a questo prezzo ho detto lo devo prendere assolutamente. Perché, diciamo, non esistono mousse a base di acido mandelico, ma a questo prezzo io non ne avevo mai visto. Quindi ho detto ora lo devo provare assolutamente. E in particolare questa mousse era anche con ingredienti molto lenitivi. Infatti c'è malva, camomilla, tra gli ingredienti, l'estratto di mirtillo, che è anche buono per la pelle sensibile, la malva. Capite che appunto sono tutti ingredienti che sono adatti per il mio tipo di viso. Quindi, adesso vi mostro l'inci, così potete vederlo anche voi. Ha degli ingredienti buonissimi questa mousse. E secondo me è adatta per tutti i tipi di pelle. Forse, direi forse, un po' meno per la pelle secca e molto secca. Diciamo, vi spiego perché. Questa mousse deterge in profondità. Cosa voglio dire? Che questa mousse non ha un effetto proprio astringente, però non è nemmeno idratante, quindi secondo me può essere adatta per una pelle mista. Perché pulisce profondamente, soprattutto in caso di pelle lucida. E quindi è molto adatta per questo tipo di pelle. Però è anche adatta per una pelle sensibile mista. E' proprio adatta, diciamo, per una pelle mista e sensibile in particolare. Per una pelle grassa anche. Sì. E' anche adatta per una pelle grassa. Secondo me, tranquillamente. Però per una pelle secca potrebbe non essere sufficiente. A meno che poi non andate ad utilizzare dopo una crema molto nutriente. Per compensare. Io, infatti, questa mousse in realtà la utilizzo con una crema, diciamo, per pelle secca e sensibile. Diciamo per bilanciare un po' le cose, visto che la pelle è molto sensibile. E diciamo, con questo abbinamento mi trovo abbastanza bene. E vi dico nello specifico cosa uso io. Quindi, utilizzo ovviamente questa mousse detergente. Poi, per quanto riguarda l'azione anti-age, mi vado un po' ad aiutare con l'ecofermentatore attivo. Che contiene, diciamo, acido iaruronico, sempre, elastina, collagene. Ed è una sorta di sieroviso. E quindi va utilizzato o prima della crema o insieme alla crema. Però, se lo utilizzate, diciamo, per dire con la crema, non vi potete avvicinare al contorno occhi. Quindi, nel contorno occhi dovete mettere una crema a parte. Invece, se lo utilizzate prima, vi conviene lavarvi le mani e poi magari mettere prima la crema nel contorno occhi e poi in tutto il viso, così. E andate sul sicuro che non vi inizia a bruciare la zona del contorno occhi. Perché è sconsigliato metterla lì, come c'è scritto nella confezione. Quindi, poi, diciamo... O tonico, o l'idrolato, è facoltativo. Dipende da voi. E io, diciamo, uso o l'idrolato di rose oppure questo tonico. Ovviamente, prima dovete utilizzare il tonico e poi il siero. Quindi, decidete voi, diciamo. Però, ripeto, è facoltativo. E poi, utilizzo questa crema. Questa crema aggiorno idratante alla camomilla della Nivea. Che ha un ottimo inci. In realtà. Perché chi conosce vecchi prodotti della Nivea facevano schifo. E quindi, insomma... E... Diciamo, è tutto da dire. Quindi... Ma ve la consiglio fortemente, questa crema della Nivea. Perché ha un ottimo inci. Quindi, concludendo. Questa mousse per me è fenomenale. Veramente molto, molto buona. Io, se avete una pelle mista insensibile come la mia, ve la consiglio. Ci vediamo presto con un prossimo video. Grazie a tutti.